Allora, volevo tranquillizzare tutti questa entrata con la stampella perché sono riudice da un'operazione al menisco, ma niente di che. Sono alla batteria per molto tempo, ogni tanto bisogna dare ripulita le ginocchia che si frantumano negli anni. Però è già stato fatto, quindi sono in compagno scienza, non santerò. Però rimane in mutata l'energia, è quello che vogliamo farvi ascoltare, soprattutto siamo molto felici di essere qui in questo concerto dedicato ad Angelo, la cui nostra amicizia ha cominciato a rappresentare qualche cosa di nostro all'interno di qualche cosa di suo, cioè quel famoso vuoro con la piuma che noi abbiamo poi, abbiamo cercato di farlo volare ancora di più con delle note che accompagnavano questo volo. Ricordo l'emozione di quella sera e quindi siamo qui perché testimoniamo questa amicizia che durerà per sempre, perché è così, quando si incontrano degli spiriti è bello che abbiano questa unicità. Il nostro settimo stasera sarà molto breve, sarà non acustico, però ovviamente i fuochi d'artificio li rimandiamo, noi saremo il 9 luglio a Masca Lucia, per cui lì faremo tutta la buona novella, che è il nostro ultimo album nuovo, quindi vi diamo appuntamento lì se vorrete venire e questa sera cominciamo con delle cose belle che ci rappresentano, che sono proprio tutte PFF, quindi è un regalo che vogliamo farvi e le mani di Tagliavini introdurranno queste cose. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.